Il lavoro è sacro, parole forse scontate ma mai da dimenticare, soprattutto in terra campana, dove il lavoro troppo spesso manca e spesso con risvolti tragici. Il cardinale Crescenzio Sepe lo ricorda gli oltre 200 dipendenti dell'Inps provinciale partenopeo, accorsi alla messa del primo maggio, ufficiata dall'arcivescovo di Napoli. Durante l'omelia Sepe è indicato San Giuseppe come modello ai lavoratori. Il lavoro deve essere compiuto, ricorda, in modo responsabile verso la comunità. E continua a Napoli, la crisi si sovrappone alla crisi e questo conduce a tragedie come suicidi per mancanza di lavoro. Diciamo che è una festa del lavoro un po' particolare, nel senso che normalmente si pensa a ricordare questo evento che la Chiesa celebra ogni anno il primo maggio, o nelle fabbriche o nelle grosse industrie. Questa volta si è scelto uno degli uffici che sono un po' parte della vita di tanti italiani, quasi tutti gli adulti italiani, dove si lavora e si lavora sempre e comunque per il bene comune, per il bene degli altri. E allora questa aggregazione di intenti, soprattutto finalizzato a responsabilizzarci perché ognuno possa poi dare il proprio contributo per il bene comune, per il bene di tutti, ecco diventa il vero senso della festa del lavoro del primo maggio che noi vogliamo celebrare. Nell'occasione la Curia Arcivescovile di Napoli ha annunciato l'apertura, entro l'estate, della Cittadella dell'Artigianato, in un capannone industriale di 1.400 metri quadri a Casavatore. Si tratta di un centro di formazione per l'artigianato che ospiterà una decina di botteghe per la formazione di giovani. Le offerte raccolte dal Cral dell'Inps saranno devolute al Centro Accoglienza per Donne Incinte, Ragazze e Madri, la Casa di Tonia, gestito dalla Chiesa di Napoli. Grazie a tutti.